Le caratteristiche di LG, Black Traction, è un nero gomma, un lucida gomma, che però ha anche funzioni tecniche, perché aiuta a mantenere, rinnovare e proteggere al massimo possibile le guarnizioni in gomma. Le arricchisce e le mantiene morbide, evitando le scarpolature, le fa regredire al massimo possibile dall'invecchiamento, ha un'elevata resistenza agli agenti aggressivi e ai detergenti e agli agenti atmosferici e ha un'alta media dell'uso e dall'utilizzo, perché come nero gomma sui pneumatici è molto più sollecitato, mentre su parti in gomma guarnizioni, avendo una funzione statica, ha molta più durata d'effetto, per cui se ne consiglia l'applicazione per circa una o due volte all'anno, dipende anche da quanto le guarnizioni vengono esposte al sole. Non contiene siliconi e vaselina, viene assorbito dalla gomma e dopo l'assorbimento rimane asciutto al tatto, mantenendo però la lucentezza e proteggendo dagli agenti atmosferici. Immediatamente dopo l'applicazione, se si adopera l'auto, non va a sporcare la carrozzeria, ha anche una funzione estetica per abbellire e mantenere il bell'aspetto. Quando decade, non ritorna bianca, sporca, come succede normalmente. Grazie. Grazie. Grazie.